Il prossimo incontro Ho paura che tutte le tecnologie stiano sostituendo la parola, io credo che la parola, quella calda, quella vera, la parola del padre della madre, la parola dell'insegnante non possa essere mediata da strumenti tecnici. Non può essere il padre che fa i compiti al telefonino col figlio, non ci può essere la madre che tra correre a prendere un figlio, a riportare un altro, a fare un'ora di danza, a fare tre ore di calcio non riesce mai, quando arriva a casa è stremata e gli sbatte davanti alla televisione. Attenzione perché quando perde la parola, quella vera, quando perdiamo la parola vera, secondo me non c'è più civiltà. Credo che mai come in questo momento ci sia la crisi delle relazioni vere e dentro alla crisi delle relazioni vere c'è la crisi della famiglia, la crisi dell'amore, la crisi del lavoro, la crisi con Dio. E' che noi avendo perso relazioni, non avendo più amori veri, non avendo più passioni, giochiamo con tutto, con l'alcol, perché mettiamo l'alcol, con l'eroina, con la cocaina, con le affetamine, con il gioco, va bene, con tra virgolette, con tutto quello che riguarda il sesso. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round, help me get my feet back on the ground, won't you please, please help me, help me, help me. Grazie.